Oggi ci immergeremo luna rossa insieme a Medsea, a 20 metri di profondità, per piantumare 800 talee di Poseidonia oceanica per un totale di 40 metri quadri. Le praterie di Poseidonia sono molto importanti perché sono considerate il polmone del mare. Infatti si stima che un metro quadro di prateria può produrre fino a 20 litri di ossigeno al giorno. Le praterie di Poseidonia servono non solo ad ospitare numerosi animali marini, ma anche a tenere unite tramite le loro radici i fondali sabbiosi contro l'erosione dovute per esempio alle mareggiate.